Amici di Bibelteatro, siamo qui con Angela Fionchiara che sarà in scena con Ho perso il filo. Di cosa parla questo spettacolo? Dunque, noi prendiamo a pretesto il mito di Teseo, ma nel senso proprio abbiamo chiesto un attimo solo e poi dopo ti lasciamo libero. E quindi parte questa storia di questa donna che vuole interpretare un eroe e quindi entra nel labirinto per sconfiggere il minotauro. In realtà non farà niente di tutto questo perché appena varca il sipario ed entra in questo labirinto si trova in un mondo completamente sconosciuto, misterioso, affollato di creature che la spingono da una parte all'altra come in un gioco, la inseriscono in tessere e le dimostrano che lei eroe non può essere. E alla fine la porteranno, la spingeranno ad affrontare questo minotauro spaventoso che la dovrebbe mangiare. Poi vabbè abbiamo comunque, per fortuna lei ha uno scarto e riscrive il mito a suo modo. L'idea di questo spettacolo come è nata? Ma è nata dal fatto di voler esplorare più personalmente alcune tematiche che ci scaldavano, che sono legate appunto a questo periodo. E poi dopo però amanti del teatro le abbiamo comunque chiuse in una storia, diciamo in un percorso, per cui abbiamo preso questo labirinto a nostro uso e consumo. Beh, allora lo spettacolo ha avuto molto successo l'anno scorso e anche per questo che è stato riproposto quest'anno. Beh, normalmente noi facciamo due o tre stagioni di uno spettacolo, cerchiamo di strizzare finché si può perché ci piace. E sarete in tour? Sì, 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 fino ad aprile. Ok, allora un saluto agli amici di Viva del Teatro, invitandoli a vedere Ho perso il filo. Certo, venite, vi aspettiamo tutti e sarà uno spettacolo con spargimento di sangue, per cui i cuori deboli rimangano a casa. Quelli che possono ridere da buttar via l'intestino possono venire. Grazie. Grazie. Grazie.